Promuovere la cultura della sicurezza a scuola. È il senso della collaborazione che da anni l'Istituto Falcone Scauda di Torre del Greco porta avanti con l'Inail. Ed è nel solco di questa condivisione di intenti che si inserisce il progetto Sicuri a scuola e non solo. Una mattinata di feste e di allegria al plesso Scauda per la manifestazione conclusiva del percorso. Protagonisti gli studenti che hanno mostrato le attività messe in campo nel corso dell'anno scolastico sui temi della sicurezza e della prevenzione di bullismo e cyberbullismo. Soddisfatta per i risultati raggiunti la dirigente scolastica Maria Iosè Abilitato. Questa scuola ha fatto della prevenzione, della sicurezza una vera e propria cultura alla tenuta di comportamenti adeguati da mettere in pratica davvero ogni giorno, ogni momento e non solamente nei momenti conclusivi. Sono state coinvolte in questo progetto 19 classi ma tutte le altre comunque sono state coinvolte in progetti concomitanti e quindi è tutta la scuola che ha partecipato. È un momento di gioia, sì. È un momento di festa. Qual è stata la risposta degli studenti? La risposta dei giovani è sempre pronta. Esprimono entusiasmo, slancio. Ed è proprio questa risposta che mi dà energie nuove ma soprattutto mi dà una speranza che senza dubbio i nostri giovani sapranno realizzare il meglio, credo, in un futuro migliore e i nostri giovani me ne danno conferma ogni giorno. È una gioia. È un progetto che abbiamo sempre voluto che dura dal 2019 in indirottamente perché uno dei compiti istituzionali dell'Inel è quello della divulgazione della cultura della sicurezza e più che mai in questo periodo in cui c'è un continuo incidente sul lavoro crediamo nella formazione di una cultura della sicurezza patrimonio indispensabile per il bambino oggi, l'alunno oggi e il lavoratore domani. I bambini consapevoli saranno lavoratori consapevoli. Devo dire con molta piacere che è stata una risposta qui all'Istituto Scauda una risposta molto molto positiva ed interessata. Ci incoraggia a proseguire negli anni in questa esperienza. Quali sono state le attività messe in campo e le finalità raggiunte? I lavori messi in campo, quindi le attività di formazione sono stati quelli di istruire i ragazzi per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e per esempio come la segnaletica, l'argomento del bullismo appunto perché associato nell'ambiente di lavoro si associa appunto al mobbing e altre tematiche che stiamo affrontando comunque anche da tanti anni. Questa è una scuola che da questo punto di vista sente molto questo tipo di argomento compreso gli alunni, gli insegnanti, la dirigente soprattutto e questo ci indica appunto l'importanza di continuare in questo senso. Quanto importanti sono queste tematiche per i giovani? Sono tematiche che ci stanno veramente profondamente a cuore soprattutto nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Io ringrazio la dirigente scolastica dell'Istituto Falcone Scauda ringrazio l'Inail perché veramente danno un'opportunità preziosissima ai nostri figli di lavorare su tematiche così importanti. Che significa essere sicuri a scuola? Essere sicuri a scuola significa essere sicuri nel posto dove i nostri figli trascorrono la maggior parte delle nostre giornate e stiamo investendo sull'edilizia scolastica anche ristrutturando plessi, proprio un plesso di questo istituto scolastico che ci sta tanto a cuore e che speriamo di poter riconsegnare alla città al più presto possibile. Quali saranno i tempi? Stiamo cercando di accelerare i lavori nel più breve tempo possibile perché veramente questo istituto scolastico che tra l'altro accoglie una platea anche molto ampia della nostra città, città necessita assolutamente di questo plesso. Stiamo parlando naturalmente del plesso Orsi Sì, 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 del plesso Orsi che per anni è stato chiuso adesso abbiamo avviato i lavori e speriamo di concluderli al più breve tempo possibile. Sì, 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 sì. Allora, guardi il plesso. Sì, sì, sì. Tantale, pari il plesso. Sì, sì. Sì, sì, sì.